Sette secoli fa questo angolo di Venezia era una spiaggia sul fronte lagunare verso la terraferma e qui fu eretta la chiesa di Santa Marta. Da tempo facente parte del sedimento dell'area portuale, dopo lunghi anni di abbandono, ha visto prima una importante ristrutturazione e ora riprende vita continuativa, accogliendo gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti e alcuni dei loro corsi di formazione. Qui porteremo dentro un blocco di materie teoriche e teorico-pratiche, tra le teorico-pratiche progettazione multimediale che verrà in particolare messa in questa, che adesso è spazio ma sarà aula, che attrezzeremo nel giro di una settimana, e le materie teoriche abbiamo cominciato oggi, elementi di iconologia su cui seguirà storia dell'arte contemporanea, fenomenologia delle arti contemporanee, ancora teorico-pratico, legato alla grafica editoriale. Un nuovo spazio importante che non sarà l'unico? No, non sarà l'unico perché già siamo presenti per esempio alla Giudecca, ma stiamo per avviare dei lavori che ci consentiranno di allargare notevolmente gli spazi e per noi diventa assolutamente strategico perché è esattamente di fronte alla sede degli incurabili. Gestiamo anche i magazzini del sale, prevalentemente per attività espositive, ma un'altra presenza assolutamente importante e strategica è quella a Forte Marghera, nel padiglione 36, che continueremo a gestire anche nei prossimi anni e che sarà oggetto di lavori di ristrutturazione. L'Accademia ha firmato un accordo con l'autorità portuale per sviluppare i propri progetti formativi, corrispondendo un canone annuo di 30.000 euro. Questa è un'area portuale a tutti gli effetti, quindi è stata data in concessione con tutti i crismi di pubblicazione e di evidenza per otto anni. Viene utilizzata tra l'altro nell'arco della settimana, è comunque un utilizzo compatibile con altre attività di divulgazione della cultura logistica portuale marittima che noi organizzeremo o di chi volesse comunque organizzare degli eventi compatibili con l'uso che ne fa l'Accademia. Per questi otto anni abbiamo la possibilità di provare, migliorare, sperimentare e anche poi consolidare una presenza importante della città, perché l'Accademia è parte integrante della città di Venezia. Un quarto degli iscritti ai corsi è di nazionalità straniera. L'iniziativa corre quindi a braccetto con la progettualità di rivitalizzare Venezia, quale città della residenza universitaria. Questo è quello che vorremmo che in questa città succedesse nel futuro, sia dal punto di vista delle aule didattiche, sia dal punto di vista di creare una nuova residenzialità per gli studenti che, come vedete, anche l'Accademia ha il 25% di studenti stranieri, vogliono venire a studiare a Venezia.